Concludiamo a livello religioso questa tragedia che ha colpito tutti quanti noi. Sicuramente la celebrazione della Santa Messa ci aiuta a vivere in maniera diversa, a iniziare a elaborare il lutto sotto gli occhi della fede, però il dolore della tragedia resta e rimarrà sempre in tutti quanti noi. Con queste parole Don Paolo Carrano, il parroco di San Leonardo a Salerno, accolto nella piccola chiesa nel quartiere sconvolto dall'omicidio e dall'assalto in casa Martino, la bara con la salma di Maria Grazia, la 91enne, uccisa lo scorso 9 luglio. Il feretro è stato portato in spalla facendolo muovere proprio dall'abitazione al civico 164, a pochi passi dalla piccola chiesetta dove non era presente la sorella Dele, che ancora non si è ripresa dalle ferite avvenute durante l'aggressione per la quale è accusato l'ex badante Giuseppe Buono. L'uomo resta nel carcere di Fuorni in isolamento e non si esclude anche un suo possibile trasferimento. Intanto domani avrà un nuovo colloquio con il suo legale, assunta a mutali passi, dopo una perquisizione che ha consentito agli agenti della squadra mobile di Salerno, che stanno indagando sull'omicidio per ricostruire l'esatta dinamica, ulteriori elementi. Pare infatti che dopo la somma di 3.400 euro che l'uomo ha confessato di aver sottratto dall'abitazione dove si trovava anche il fratello allettato delle due donne, Isidoro, sia stato trovato in casa altro denaro ed è stata ascoltata anche la compagna del presunto assassino. Non si escludono dunque novità nell'inchiesta nei prossimi giorni. Nel frattempo, come dicevamo, si è svolto l'ultimo saluto a Maria Grazia Martino che, come ha ricordato Don Paolo, era una persona amabile, conosciuta e amata da tutti. Frequentava ed era conosciuta e stimata da tutti quanti. Persona discreta, silenziosa, amabile. Ha lasciato un ricordo buono in tutta la comunità, un ricordo che poi adesso ovviamente, come ho detto prima, è un dolore, un dolore immenso. Grazie a tutti.